Avvocato scusi il vocale ma come sarebbe a dire devo lasciare casa a fine mese? Capisci Avvocato così non ho più niente capisci Avvocato così non ho più niente La vita insegna è un attimo avere bisogno È un attimo offrire sostegno Ben prevenuto Usi pure il telefono Destina il tuo 5x1000 all'opera per chi riascolta i propri messaggi vocali Aiutiamoli a non sentirsi Grazie a tutti Grazie a tutti